Prova, ok, aspetta ci siamo, si vede bene? Io non so tanto centrate ciccia, no forse sì, vabbè, è uguale se si vede più te, vado? Sì, ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui con un ospite speciale, come ti chiami? Katia. La conoscete tutti perché è la mia bambina e è qui con me perché il video di oggi sarà condotto direttamente da lei, perché parliamo di libri, ma parliamo dei suoi libri preferiti. Quindi praticamente le ho chiesto di scegliere quali fossero i suoi cinque libri preferiti da potervi mostrare, da poterne parlare, così magari può essere di spunto anche per i vostri bambini. E io però non so che cosa ha scelto perché ha messo tutto dentro una busta che è qui accanto a noi e io non ho visto niente, quindi sarà una sorpresa anche per me. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò a un nuovo video. Raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Brava. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo. Vai, prendi pure. Sono quattro libri. Cinque avevi detto prima. E avevo detto quattro. Ah, ok, sono quattro, vai. Il primo, vai. Questo è il mio preferito. Vero. Perché è il lupo più bello. Questo è bello. Questo è bello. Come si intitola, leggi? Il più furbo. Il più furbo. E è uno dei primi libri che abbiamo comprato. Perché questa bambina quando è arrivata diceva che aveva paura dei lupi. Ecco. E invece con questi libri abbiamo capito che i lupi non fanno paura. Di cosa parla questa storia? Perché il lupo è vestito così? Facciamolo vedere. Perché è vestito da donna e da nonna. Da nonna. E tutti dicono nonna, ciao nonna, ciao nonna, ciao nonna, ciao nonna, raccomandaci il lupo. Eh, esatto, raccomandaci. E anche... Praticamente che è successo? Questo lupo si travesse da nonna. Ma cosa succede? Quando esce fuori dalla casa della nonna, la porta si chiude. Si chiude. E rimane vestito da nonna e non gli riesce a togliersi questa... Stupida camicia. Da notte. Da notte. E tutti lo scambiano per la nonna e lui impazzisce, non ne può più di sembrare la nonna. Allora io confermo che questo titolo è uno dei tuoi preferiti perché lo leggiamo spesso. Sì. Ok, andiamo avanti. Secondo. Secondo questo. Rimaniamo sul lupo. Sono io il più bello. Sono io il più bello. Sono io il più bello. E infatti questo libro parla di un lupo che va nella foresta sempre a dire a tutti... Io sono il più bello dai, io sono il più bello dai amatemi. Io sono il più bello di Zerreano. Ma alla fine si combatte col draghetto. Trova un draghetto? Sì. E come lo chiama il draghetto? Lui lo chiama specie di cetriolo. Brava! Lui si offende, le sputa il fuoco e dice il più bello è il mio papà. E quindi il draghetto alla fine lo brucia tutto e lui rimane tutto bruciato. Vero, anche questo l'abbiamo letto un miliardo di volte la sera. Sì. Ok, terzo libro. Terzo libro è... Tadam! Elsa. Elsa. Io ci rimango pazza. Ci rimango pazza. E praticamente questo è il libro con tutte le storie di Frozen. Sì. Perché Frozen è un po' uno dei tuoi cartoni animati preferiti. E qui ci sono tantissime storie con dei bei disegni. Sì. Ogni sera leggiamo una storia diversa. Qui sono proprio storie da cinque minuti da leggere proprio prima di andare a letto. Sì. Anche questo abbiamo anche il segnalibro già messo dentro. Perché col babbo mi sembra lo stavi leggendo, vero? Ultimo libro? No. Ah, ne mancherò due? A te ne manca? Sì, due. Due? Allora erano cinque in tutto. CP a me piaceva. CP. È vero, l'abbiamo letto insieme. CP l'abbiamo letto insieme perché ancora sei un po' piccola per leggerlo da sola. E però questo io l'ho letto... Te lo ricordavi? Te l'avevo detto che io l'ho letto quando ero una bambina come te. Sì. L'ho letto, non mi ricordo, terza, quarta elementare? Sì. Eh, più o meno alla tua età. Sì, più o meno. A scuola. Invece da te per ora non l'avete letto e quindi l'abbiamo letto insieme. Sì, beh, il disegno. Ne facciamo mostrare uno. Fagli vedere il disegno. Questo. Ecco qua. Sono disegni fatti dai bambini dentro, vedi? E di cosa parla questa storia? Chi è CP? CP è un uccellino. Perché lo chiamano CP? Perché lui è CP. Eh, ma te lo ricordi all'inizio? Lui non fa piu piu quando nasce. Lui fa chip chip. CP, CP. CP, CP è vero. Lui addirittura diceva CP, CP, voglio uscire di qui. Qui, è vero. Perché non voleva stare nel nido. Sì, nel nido con il suo fratellino. Brava. Con la sua famiglia. E quindi qui c'è tutta la storia di questo uccellino che cresce. Sì. E vive nella natura e deve lottare per avere il cibo, per sfuggire agli umani, perché gli umani sono cattivi, vero? Si vede tante volte. Ultimo titolo suggerito da Katia. Ah. Ah. Eccolo qua. Bello anche questo, bello. Storie per parlare di Dio e i nostri figli. Bello anche questo. Perché questo ha tante storie che sono le parti principali, diciamo, della nostra religione. Sì, facciamolo vedere. Tutti bisogna farle vedere. Questo è qua. Uh-huh. Oh mamma. Ecco qua. Allora, è un libro che ha tante storie, racconta con parole giuste per i bambini le parti principali della nostra religione. Quindi per esempio quando è stata creata la terra, Adamo e Deva, il Natale, la Pasqua, eccetera. E poi ci sono anche delle storielline che danno dei piccoli... Brava. Di Dio, di Dio, di Dio del cielo, di Dio dell'amore. Esatto. Il Dio dell'amore non c'entra niente. Va bene. E comunque... E poi ci sono delle storielline che danno degli insegnamenti, che ti insegnano a essere gentile con gli amici, aiutarli. Sì. Vero? A essere educato con i genitori, a rispettare le regole. La scuola, la scuola, che ci sono un sacco di bambini che dicono benvenuto. Ah sì, c'era la storia di un bambino che arriva da lontano, che arriva in classe e si sente un po' smarrito e i bambini della classe lo accolgono bene. Come un suo amico. Come un amico. Paglia. Esatto. Esatto. E quindi questo, anche questo è un bel libretto che via via leggiamo. Vero leggiamo una storia ogni tanto. Ok, questi sono i tuoi libri preferiti? Non c'è magari... Lo vuoi portare quello dei colori? Anche quello era bello, eh? Sì. Facciamo un libro in più, un libro bonus? Dai. Ok, dopo questo momento di pausa siamo andate a prendere altri due libri. Sì. Perché ci siamo accorti che ci sono un altro paio di libri che effettivamente ti piacciono tanto e quindi invece di cinque ne facciamo vedere sette, tanto non importa. Più i libri sono meglio è. Quindi facciamo vedere il primo, vai cara. Ok, questo si intitola Tutti i colori della vita, che è oltretutto uno dei miei preferiti anche da leggerti, ha cinque personaggi, ok? Allora, facciamoli un attimo vedere questi cinque personaggi. Come si chiama lei? Te lo ricordi questa gialla? Pepita. Pepita. Ok, questa blu? Blu. Red. Red. Mr. Green. Green. E quello nero era nonno? Carbone. Nonno Carbone. Ok. Questi cinque personaggi sono persone che vivono in dei palazzi tutti dello stesso colore. Cioè Blues vive in un palazzo tutto... Palazzo blu. Pepita vive in un palazzo tutto... Palazzo tutto... Giallo. Esatto. Un giorno... Questi palazzi cominciano a... A tremare. E dopo tutti escono... Escono di casa e si ritrovano... Nello stesso momento insieme. E dicono ma... Come? Come? Perché come fai a testare di un altro colore? Io conosco soltanto il blu, io conosco soltanto il rosso. Io conosco soltanto il giallo. E alla fine capiscono che la vita è più bella... Stare insieme. Stare insieme con tutti i colori insieme. Infatti loro vivevano in una città tutta grigia. E invece dopo essersi conosciuti... Vedete la città era tutta grigia. Dopo essersi conosciuti come diventa questa città? Tutti di... Tutto lo stesso colore bello. Tutti colorati. Tutta colorata. Quindi questa è una lettura veramente molto bella per i bambini. Bellissima. Ok, adesso ultimo libro, il settimo libro. Torniamo con Lupo. Ormai l'abbiamo capito che il Lupo è il nostro personaggio preferito. Sì, è perfetto infatti. Il Lupo... C'è anche un altro, però su della nonna ce l'ho uno. Se lo sarebbero troppi. Troppi. È uno della nonna che cucina. È vero, è la festa di comple... No, quando cucina la torta di mele. La torta di mele che è... No, c'è anche il Lupo è la festa di compleanno. Sì, sono tre. Questo è il libro del Lupo che non amava leggere. Perché? Perché lui mi piaceva sempre mangiare tutti i libri. Li mangiava, non li leggeva. Non li leggeva perché li annoiava, non li importava. E poi quando invece si mette a leggerne uno... Poi invece si mette a leggerne uno... Una pagina, poi terza, poi la quarta. La quarta si addormenta. E comincia a sognare tante avventure. E in realtà noi si capisce che non si era veramente addormentato ma che stava leggendo. Ah, è vero. E gli sembrava di vivere quelle avventure da quanto era bello leggere. E infatti alla fine i suoi amici lo vanno a chiamare e lui cosa gli dice? No, voglio finirlo questo libro. Esatto, esatto. Anche questo è molto bello. Vi facciamo vedere anche qua qualche pagina. Qui vedete? La bibliotecaria. La biblioteca. E la bibliotecaria era lei, esatto. Che gli dice? Ho perso... Ho perso i miei dieci libri. L'hanno trovato un sacco di venture. Un sacco di venture. Di avventure. Avventure. Benissimo. Allora, con questo noi concludiamo, fidiamo. Questi erano i libri preferiti della Katia. Fateci sapere se vi piacciono e se ci sono altri libri che ci suggerite per lei. Ok? E niente, allora noi vi salutiamo e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao! 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 Grazie.